Sto rientrando a Trieste e come dicevi tu non si può continuare a vivere di fortuna perché a suo tempo è crollato il tetto dei Biffin, se vi ricordate, un problema di progettazione e adesso voglio verificare perché qua potevano esserci 50 morti, sai, se la piscina marina era aperta avremmo avuto una strage, chi ha sbagliato in questo caso bisogna cercare le responsabilità perché non possiamo avere, anche se è stata costruita in tempi che io non ero sindaco, cioè non toglie che però non si possono fare queste cose, qui c'è un errore strutturale probabilmente, per cui molto 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 grave, comunque per fortuna ringraziamo il buon Dio che è andata bene e adesso vedremo. e voglio verificare, ma immagino già che invece che, devo vedere, ma immagino già dove sta il difetto, lo stesso che era il Biffin, ti ricordi che invece che aveva appoggiato sui tradi avevano aggiunto, mi segui il tetto, invece che appoggiato sulle colonne era stato aggiunto, era un classico di quegli anni, anni fine anni 90, capisci? era un classico di chi progettava queste cose.